L'anno scorso, 2019, si è celebrato il centenario della morte di San Francisco Marto, uno dei tre pastorelli di Fatima. In questo 2020, precisamente il 20 febbraio, celebreremo l'anniversario della morte dell'altra piccola veggente, la sorellina di Francisco, Giacinta Marto, due anniversari centenari uno dopo l'altro. Se è vero come è vero che Dio parla a tutti noi, anche attraverso le date, evidentemente il susseguirsi di questi due anniversari centenari vogliono essere un modo attraverso cui il Buon Dio riporta la nostra attenzione sull'esempio di santità semplice e allo stesso tempo sublime offerta da questi due piccoli angeli in carne, Francisco e Giacinta Marto, cugini di Suor Lucia, la veggente principale di Fatima. Allo stesso modo il loro esempio veicola un messaggio sempre vero e sempre attuale che però oggi stiamo veramente dimenticando e che invece è l'essenza della santità e che non può essere obbliato senza gravi danni per la spiritualità, la sana spiritualità cattolica. E allora riflettiamo insieme su chi sono stati e soprattutto quale tipo di santità ci hanno offerto i due piccoli pastorelli di Fatima, Giacinta e Francisco Marto. Francisco e Giacinta Marto sono stati canonizzati molto di recente, precisamente nel 2017, maggio 2017, in occasione della visita al santuario di Fatima del pontefice Papa Francesco. E la loro canonizzazione è particolare perché innanzitutto sono i primi santi bambini non martiri, tutti gli altri bambini canonizzati nella storia della chiesa sono bambini martiri. Si pensi ad esempio a Santa Agnese, a Santa Cecilia, tutte queste sante fanciulle martirizzate, oppure a Sant'Arcisio, il martire dell'Eucaristia. Ma la particolarità della canonizzazione di Santa Giacinta e Francisco Marto non è semplicemente questa, perché per la loro canonizzazione è bastato semplicemente un miracolo ottenuto per l'intercessione di entrambi e non quindi uno per ciascuno, come voleva la prassi della beatificazione e canonizzazione dei confessori non martiri. Dunque, dei santi speciali, ecco, fin dal modo in cui sono stati canonizzati, si intuisce che c'è qualcosa di speciale in questi due bambini. Questi due fratellini sono stati stretti dai vincoli della carne e del sangue, senz'altro, ma ancora di più lo sono stati da quelli dello spirito. La via della santità che hanno percorso insieme con eccezionale rapidità sotto la guida materna di Maria testimonia che di certo erano fratelli, figli di un unico padre e di un'unica madre, che hanno amato e servito offrendo la loro vita appena cominciata, senza alcuna riserva. Uno stesso segreto li accomuna, un segreto che vorremmo scoprire. La primissima cosa a sorprendere di questi piccoli due cuginetti è proprio quella corsa che li ha visti bruciare tutte le tappe. Anche loro, come l'Apostolo San Paolo, hanno combattuto la buona battaglia, terminato la corsa, conservato la fede, meritando la corona di giustizia che il Signore giusto giudice ha loro consegnato in quel giorno, 2 Timoteo 2, 7, 8. E tutto questo con che rapidità? Se si considera il loro percorso, a partire dalla prima apparizione della Madonna, il 13 maggio 1917, ci hanno messo meno di tre anni, meno di tre anni, per raggiungere quella perfezione a cui Dio li aveva destinati e a cui destina ciascuno di noi. Come hanno fatto? Ci si chiede. La più bella risposta l'ha data Papa Giovanni Paolo II nel 2000, in occasione dell'omelia per la loro beatificazione. Spiegava così, vi dico che si progredisce più in poco tempo di sottomissione e dipendenza da Maria, che durante anni interi di iniziative personali appoggiati soltanto su se stessi. San Luigi Grignon di Monforti, il trattato della vera devozione alla Vergine Maria. Riprendendo questo passaggio, poi dopo continua il pontefice polacco. È stato così che i pastorelli sono diventati rapidamente santi. Una donna che aveva accolto Giacinta a Lisbona, nel sentire i consigli tanto belli e saggi che la piccola dava, le domandò chi era stato ad insegnargli. È stata la Madonna, rispose. Lasciandosi guidare con totale generosità da una maestra così buona, Giacinta e Francesco hanno raggiunto in poco tempo le vette della perfezione. La dipendenza da Maria ha loro permesso di penetrare negli abissi più intimi del cuore immacolato della Vergine e nel cuore eucaristico di Cristo, dalla cui amabilità e dalla cui dolcezza si sono sentiti sempre rapiti. La piccola Giacinta, poco prima di morire, diceva a Lucia di essere bruciata da un fuoco spirituale che le faceva amare Gesù e Maria e che avrebbe desiderato trapiantare nelle anime tutte. «Si io potessi mettere nel cuore di tutti il fuoco che mi brucia qui nel petto», diceva la piccola Giacinta, «e mi fa amare tanto il cuore di Gesù e il cuore di Maria». Era questo il suo grande desiderio. Quei due cuori erano stati la sua porzione, la sua eredità più preziosa sulla terra. «Sento il Signore, ancora Giacinta, dentro di me, capisco quel che mi dice e non lo vedo né percepisco la sua voce, ma è così bello stare con lui». Entrambi sono stati fedelissimi all'eredità lasciata loro dall'angelo del Portogallo nel corso delle prime tre apparizioni avvenute nel 1916, un anno prima di quelle della Vergine Maria. Soprattutto Francesco era solito trascorrere lunghe ore davanti al tabernacolo, solo con Gesù solo, per consolarlo delle ingratitudini, degli oltraggi, dei sagrileggi e delle indifferenze con cui egli offeso, come appunto ricordava la preghiera dell'angelo durante la terza apparizione. E, con la sorella e la cugina, amava ripetere spessissimo quella preghiera che fu loro intimamente ispirata. «Santissime a Trinità, io vi adoro, mio Dio, mio Dio, io vi amo nel Santissimo Sacramento». Cosa dire poi della passione eucaristica di Giacinta? Suor Lucia racconta nelle memorie alcuni episodi molto significativi e molto edificanti. Lasciamo allora la parola a Suor Lucia. «In un'altra occasione le portai un'immaginetta che aveva un calice con un'ostia. La prese, la baciò e il raggiante di gioia diceva «è Gesù nascosto, gli voglio tanto bene, oh, se io potessi riceverlo in chiesa, in cielo, non si fa la comunione. Se lassù si farà la comunione, io la farò ogni giorno. Se l'angelo venisse all'ospedale a portarmi un'altra volta la santa comunione, come sarei contenta!» Quando cente volte tornavo dalla chiesa, è sempre suor Lucia che parla, ed entravo in casa sua, mi chiedeva «hai fatto la comunione?» Se le dicevo di sì, «vieni qui molto vicino a me, che hai nel cuore Gesù nascosto», mi rispondeva. La loro, quella di Giacinta e Francesco, era una passione eucaristica e mariana, dunque, e questa passione eucaristica e mariana li condusse rapidamente a una mistica eucaristica e mariana. Sono dei veri mistici dell'eucaristia e del cuore di Maria. Questo messaggio, tra tutti, mi sembra sia il più profetico e programmatico, perché ci offre anche a noi, insieme ad un elemento inalienabile della santità cristiana, praticata fino in fondo da questi due fanciulli, cioè l'eucaristia e la Madonna, senza i quali non si può essere santi, ci lascia però anche le armi per la buona battaglia e il pegno del futuro regno di Maria, perché il futuro regno di Maria sarà un regno tutto eucaristico e tutto mariano. Difficile descrivere quelle esperienze così intense che erano soliti avere i due piccoli santi. Quando si chiedeva a Giacinta, durante la sua permanenza in ospedale, perché teneva sempre una sedia libera accanto al suo letto, e la rispondeva. Candidamente spiegava che quella era per la Madonna quando veniva a farle visita e Francisco, al momento del trapasso, poté descrivere agli astanti la Vergine che come buona madre era venuta a prendere il suo fiorellino per portarlo, come da lei promesso, in cielo. Parlando di Francisco, Papa Giovanni Paolo II ricordava, sempre in quell'Omelia citata all'inizio, nella sua vita si opera una trasformazione che si potrebbe dire radicale, una trasformazione sicuramente non comune per bambini della sua età. Egli si impegna in una intensa vita spirituale, con una preghiera così assidua e fervente, da raggiungere una vera forma di unione mistica col Signore. Proprio questo lo spinge ad una crescente purificazione dello spirito, mediante tante rinunce a quello che gli piace e persino ai giochi innocenti dei bambini. Quella dei fratellini Marto è stata davvero la via del candore, della semplicità, dell'innocenza. Una via che ricorda per certi versi quella di San Francesco d'Assisi e di Santa Bernadette Soubirous, che rifugivano da ogni rilettura e reinterpretazione della parola che veniva loro rivolta dal cielo. La loro maestria è stata quella di eseguire sempre alla lettera quanto sapevano essere volere di Dio, di Maria, a differenza nostra, che siamo sempre pronti a fare commenti, interpretazioni, glosse, come più ci fa comodo. Diversa era invece la via di San Francesco, Santa Bernadette e dei piccoli Marto. Il principio informante della loro santità qual è stato? Non vi è dubbio in proposito. È stato quel fiat, sì, detto a Maria e mai revocato, gridato con coraggio durante la prima apparizione da Lucia, anche però per i suoi due cuginetti, e che ha riecheggiato per tutto l'arco della loro vita quel fiat che è stato un eco fedele di quello di Gesù, fiat voluntas tua, Matteo 26,39, nell'orto degli ulivi, e di quello di Maria, fiat michi secundum verbum tu, Luca 26,38, all'annuncio dell'angelo. Giacinta amava tanto sentire la eco della sua voce che risuonava nelle valli. Il nome che più echeggiava era quello della Madonna. A volte Giacinta, quella a cui la Vergine Santissima ha comunicato maggior abbondanza di grazie e maggior conoscenza di Dio della virtù, come scriverà su Lucia, recitava tutta l'Ave Maria pronunciando la parola seguente soltanto quando l'eco riproduceva per intero quella precedente. Innocentissima preghiera di bambina dove il soprannaturale si sovrapponeva al naturale. Ebbene, la Madonna ha fatto a questa piccola bambina un regalo davvero bello. La grazia di Dio sarà il vostro conforto, prometteva la Vergine Maria ai veggenti a maggio. E quella grazia ha permesso alla piccola Giacinta di sentire per tutto l'arco della sua vita, fino all'ultimo mento, all'ultimo respiro, la eco melodiosa di quel si detto a Maria, si lo vogliamo. Così risposero quando la Madonna le chiese volete offrirvi a Dio in riparazione dei peccati per la salvezza dei peccatori. E loro si lo vogliamo. E questa voce è stata come una eco che ha continuato durante tutta la vita della piccola Giacinta, non ha mai detto no. E si è estinta solo quando la piccola eroina si è spenta poco più di due anni dalle apparizioni. E si è spenta come un fiore profumato raccolto dalla bianca signora e presentato davanti al trono di Dio, proprio come ella aveva promesso a tutti quelli che sarebbero stati devoti al suo cuore immacolato. I devoti al mio cuore immacolato, disse la Madonna Giugno, parlando ai piccoli pastorelli, saranno come fiori da me raccolti e messi davanti al trono della Santissima Trinità. Possiamo davvero pensare che questa promessa si è compiuta per Giacinta e Francesco e anche per Lucia, morta nel 2005. Fiorellini preziosi e profumati davanti alla Trinità. Del resto potremmo esserlo anche noi, qualora, come la Madonna ci chiede, siamo devoti al cuore immacolato di Maria. Ma le meraviglie della santità di questi due fratellini non finisce qui. C'è un altro aspetto almeno importante da toccare. Francisco e Giacinta Marto si sono fatti santi in così poco tempo anche perché, oltre a quello che abbiamo già detto, sono andati dritti al contenuto essenziale della vocazione cristiana. Preghiera e sacrificio. La loro giovane vita l'hanno spesa nella preghiera e nel sacrificio, mossi e informati da un grande amore a Dio e al cuore di Maria. Si sono saputi immolare perché rapiti, avvolti da quella carità oceanica che tutto muove e tutto crea. Di quella carità di cui la Vergine Benedetta, apparendo a Fatima e i pastorelli, si è fatta maestra che introduce i piccoli veggenti nell'ultima conoscenza dell'amore trinitario e li porta ad assaporare Dio stesso come la cosa più bella dell'esistenza umana. E queste sono le parole di Benedetto XVI nel 2010 a Fatima. Continua ancora Benedetto XVI in quella omelia del 13 maggio. Un'esperienza di grazia che li ha fatti diventare innamorati di Dio in Gesù al punto che Giacinta esclamava mi piace tanto dire a Gesù che lo amo. Quando glielo dico molte volte mi sembra di avere un fuoco nel petto ma non mi brucio. E Francesco diceva quel che mi è piaciuto più di tutto fu di vedere nostro Signore in quella luce che la nostra madre ci mise nel petto. Voglio tanto bene a Dio. E qui finisce la citazione di Benedetto XVI. E questa profonda esperienza di Dio dunque cari amici che ha misticamente addestrati i due fratellini facendoli giungere attraverso una generosità mai satura ad una carità che si dilatava verso i bisogni di tutto il mondo. Consolare Gesù e Maria offesi era la loro grande passione. Parlando di Francesco il Papa Giovanni Paolo II all'omelia della beatificazione ricordava che a lui Dio si fece conoscere tanto triste come egli diceva. Una notte suo padre lo sentì singhiozzare e gli domandò perché piangesse. Il figlio rispose pensavo a Gesù che è tanto triste a causa dei peccati che si fanno contro di lui. Un unico desiderio muove ormai Francesco ed è quello di consolare e far contento Gesù ricorda Giovanni Paolo II. Francesco sopportò le grandi sofferenze causate dalla malattia della quale poi morì senza alcun lamento. Tutto gli sembrava poco per consolare Gesù. Morì con il sorriso sulle labbra. Grande era nel piccolo il desiderio di riparare per le offese dei peccatori offrendo a tale scopo lo sforzo di essere buono, i sacrifici, la preghiera. Anche Giacinta, sempre Giovanni Paolo II in quella omelia, la sorella più piccola di lui di quasi due anni, viveva animata dai medesimi sentimenti, ma a lei fu dato soprattutto di condividere e vivere l'afflizione della Madonna per i peccati che si commettevano e per le anime che vanno all'inferno. Il discorso delle anime che vanno all'inferno è stato proprio il chiodo fisso nell'anima di Giacinta, ancor più che in Francesco. Proprio per questo si offriva eroicamente come vittima per i peccatori. Un giorno, quando lei e Francesco avevano ormai contratto la malattia che li costringeva a letto e li avrebbe portati alla morte, la Vergine Maria venne a visitarli in casa, come racconta Giacinta. La Madonna è venuta a vederci e ha detto che molto presto verrà a prendere Francesco per portarlo in cielo. A me ha chiesto se volevo ancora convertire più peccatori, le ho detto di sì. E quando si avvicina il momento della dipartita di Francesco, la piccola gli raccomanda, da parte mia porta tanti saluti a nostro Signore e alla Madonna e di loro che sono disposta a sopportare tutto quanto vorranno per convertire i peccatori. Giacinta era rimasta così colpita dalla visione dell'inferno avvenuta nell'apparizione di luglio che tutte le mortificazioni e penitenze le sembravano poca cosa per salvare i peccatori. Fin qui l'omelia di Giovanni Paolo II. Riflettiamo. Il loro sacrificio, la loro penitenza, la loro sofferenza, erano mossi dal desiderio di interporsi tra Dio e i peccatori ingrati e così, placando la sua giustizia oltraggiata, salvare tanti dall'eterna dannazione. Benedetto XVI ci ricorda. Nella Sacra Scrittura appare frequentemente che Dio sia alla ricerca di giusti per salvare la città degli uomini e lo stesso fa qui, in Fatima, quando la Madonna domanda, volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi in atto di riparazione per i peccati con cui Egli offeso e di supplica per la conversione dei peccatori? San Francesco e Santa Giacinta, così, sono andati davvero all'essenziale, facendosi vittime con Gesù vittima, agnellini immolati con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Li muoveva una carità veramente gigante e mai sazia di offrire e soffrire per amore di Gesù e Maria, per la salvezza dei peccatori, per riparare i peccati. Su Lucia nelle sue memorie racconta numerosissimi fioretti legati alle penitenze e sacrifici dei suoi piccoli cugini. Riportiamone qualcuno a edificazione di tutti noi e per imparare a essere un po' meno lontani da questa perfezione incarnata da questi due piccoli eroi della carità. Passati alcuni giorni andavamo con le nostre pecorelle per un sentiero sul quale trovai un pezzo di corda di un carro, la raccolsi e giocando l'annodai a un braccio. Non tardai ad accorgermi che la corda mi faceva male. Dissi allora ai miei cugini, guardate, questa fa male, potremmo legarla alla vita e offrire a Dio questo sacrificio. Quei poveri bambini accettarono prontamente la mia idea e subito la dividemmo fra noi tre. Il nostro coltello fu lo spigolo di una pietra abbattuta su un'altra. Sia per la grossezza e la sprezza della corda, sia perché a volte la stringevamo troppo, questo strumento talora ci faceva soffrire orribilmente. Giacinta qualche volta lasciava cadere alcune lacrime per il dolore che la corda le causava e quando io le suggerivo di toglierla rispondeva no, voglio offrire questo sacrificio al Signore in riparazione e per la conversione dei peccatori. Un'altra volta giocavamo cogliendo dai muri certe erbe con le quali, stringendole nelle mani, si produce un piccolo scoppio. Giacinta raccogliendo quelle erbe raccolse senza volere anche delle ortiche con le quali si punse. Sentendo il dolore le strinse ancora di più nelle mani e ci disse guardate, guardate un'altra cosa con cui ci possiamo mortificare. Da quel giorno prendemmo l'abitudine di darci ogni tanto con le ortiche dei colpi sulle gambe per offrire a Dio anche quel sacrificio. Quanto abbiamo da commuoverci e imparare. Ancora più commovente ed eroica era la generosità da cui i piccoli santi erano mossi nell'offrire a Dio le sofferenze morali che sono sempre più dolorose di quelle fisiche, che ricevevano come provenienti anche esse direttamente dalle paterne mani di Dio. Pregnante è questa pagina delle memorie di Solucia che racconta la loro esperienza quando furono fatti prigionieri dal sindaco di Uremma. Racconta Solucia. Quando dopo averci separati ci riunirono di nuovo in una stanza della prigione dicendo che da lì a poco sarebbero tornati per friggerci, Giacinta si allontanò da noi verso una finestra che si apriva sul mercato del bestiame. Pensai all'inizio che stesse distraendosi con quel che vedeva ma presto mi accorsi che stava piangendo. Andai a prenderla e le chiesi perché piangesse. Rispose perché moriremo senza rivedere i nostri papà e le nostre mamme e con le lacrime che le scorrevano per le guance disse io voglio almeno vedere la mia mamma ma dunque non vuoi offrire questo sacrificio per la conversione dei peccatori? Lo voglio lo voglio e con le lacrime che le bagnavano il viso con le mani e gli occhi alzati al cielo fece la sua offerta. Oh mio Gesù è per vostro amore per la conversione dei peccatori per il santo padre in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria. Se anche noi sapessimo fare così con quelle sofferenze che ci troviamo a dover subire, affrontare nella nostra vita che non sono mai senza un disegno della divina provvidenza. I carcerati che erano presenti continua su Lucia a questa scena ci vollero consolare e dicevano ma dite al sindaco questo vostro segreto cosa importa a voi che quella signora non voglia? Dirlo no rispose giacinta con vivacità piuttosto voglio morire. La fedeltà a Dio. E questa carità sacrificale cari fratelli e sorelle una carità che non inganna e non illude gli altri né si prende gioco di Dio perché è la stessa carità di Cristo sofferente e morente per noi. Non c'è carità più grande di chi dà la vita per i propri amici ci diceva nostro signore. In questo senso questa carità sacrificale è il più fruttoso amore per i poveri, i veri poveri, quelli dello spirito, quelli che sono appunto nel peccato, che non hanno la grazia. È un amore fruttuoso per questi veri poveri del mondo perché non ubriaca nell'illusione di salvarli dai mali sociali, dai disagi economici. Cosa diceva nostro signore? Ricordate i poveri li avrete sempre con voi. Bisogna certo aiutare i poveri ma non illudersi di poter togliere i problemi del mondo. Gesù ha detto o meglio San Giovanni indicando Gesù ai discepoli disse ecco colui che toglie i peccati del mondo. Non mi sembra abbia mai detto Giovanni ecco colui che toglie i poveri del mondo, che toglie i debiti del mondo, che toglie i problemi del mondo, che toglie le sofferenze del mondo. Non l'ha detto perché Gesù non è venuto a fare questo. È venuto a fare qualcosa di più grande, a togliere i peccati del mondo e a distruggere colui che del peccato ha autorità, che sul peccato ha autorità, Satana. E dunque cari amici, per un mistero soprannaturale, questo amore sacrificale che ci è benissimo rappresentato da Giacitta e Francesco realizza una spirituale azione vicaria. Per cui i veri amanti di Dio e delle anime liberano con loro preghiere e sacrifici tanti loro fratelli dal peccato e dalle fiamme dell'inferno. Ricorda Socci in un suo libro. La cosa veramente sconvolgente, indicibile, la sofferenza vicaria, l'esistenza di vittime che silenziosamente da tutti ignorate si caricano di sofferenze per pagare colpe altrui e spiano per tutti, liberando anche tante anime del purgatorio. Questa opera è l'unico grande movimento di liberazione, l'unica vera teologia della liberazione che renda felici delle moltitudini e che non provochi tragedie. Cari amici, allora anche semplicemente riflettendo su queste poche notizie che ci siamo trasmessi, ci rendiamo conto di quanto dicevamo all'inizio, cioè che quanto dicevamo all'inizio è proprio vero, non è senza una speciale provvidenza che celebriamo tra l'anno scorso e quest'anno i due centenari di questi due santi canonizzati nel 2017. Tutto fa convergere l'attenzione verso questi due piccoli santi e un significato, profondo, c'è. La loro santità è quanto mai attuale, i loro esempi sono quanto mai importanti da ricopiare, riprendere anche noi nella nostra vita. Non ci inganniamo con falsi modelli di santità, non ci inganniamo pensando che la vita cristiana sia una cosa sempre, una cosa a rose e fiori. La vita cristiana è una cosa seria, ma ecco noi diventiamo con Gesù e con Maria strumenti di salvezza per noi e per tanti altri. Che i Santi Francesco e Giacinta intercedendo per noi ci sappiano indicare la vera via della santità cristiana, ciò che piace al cuore immacolato di Maria è il sacro cuore di Gesù. Siano sempre lodati i sacri cuori di Gesù e Maria. Siano sempre lodati i sacri cuori di Gesù e Maria. Siano sempre lodati i sacri suaminanisi di corrispondono di Gesù e Maria. Siano sempre lodati i sacri cuori di Gesù e Maria. Grazie.